Ascoltiamo Pioli, Pioli che ha avuto modo nella conferenza stampa di oggi pre-partita, domani saremo qui a raccontarvi Juventus-Milan dalle 18, ha avuto modo anche di difendersi e pizzicare un po' l'Inter e il lavoro di Simone Inzaghi in questi anni. Ascoltiamo. L'Inter è quattro anni che è la squadra più forte del campionato, questo sicuramente, e ha vinto solamente due scudetti, noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato, abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, ci siamo riusciti in alcune volte, in alcune volte meno, ma abbiamo dato tutto, ma non sempre siamo riusciti, purtroppo poi, a mettere, mentalmente abbiamo dato tutto, abbiamo provato a dare tutto, ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco. Dice Pioli, noi non siamo mai stati i più forti del campionato negli ultimi quattro anni e uno non abbiamo vinto, gli scudetti, poi abbiamo provato a dare tutto, a volte siamo riusciti, a volte no. L'Inter invece negli ultimi quattro anni, ha vinto solo due scudetti avendo la squadra più forte. Io sono d'accordissimo perché ho sempre detto che Marotta, da quando è arrivato con la crescita di Ausilio, ha messo sempre a disposizione degli allenatori dell'Inter delle squadre competitive, non sto dicendo super competitive, competitivine, no, competitive. In Italia sicuramente è sempre stata competitiva, anche il primo anno di Antonio all'Inter, l'Inter era competitiva, infatti è arrivata a un punto dalla Juve, lascia stare che quel punto poi è derivato che la Juve negli ultimi cinque ha mollato perché aveva già campionato d'Italia, e poi è arrivato in finale di Europa League, l'anno dopo, secondo me hanno lavorato benissimo i dirigenti, sempre sul filo di lana con questo proprietario comunque abbastanza discusso e discutibile, con un bilancio da far quadrare e quindi devi cedere per fare tutti i conti col Misurino. Secondo me è vero perché io vorrei ricordare che quando Antonio all'Inter voleva Lukaku a tutti i costi e se ne stava andando, perché aveva già dato le dimissioni dopo tre giorni di lapinettina con incollegamento Zang e l'ordine del giorno era la punta centrale e lui aveva detto no, non se ne parla e lui ha detto no, se non prendi Lukaku trovatevi un altro allenatore, queste furono le parole, Lukaku è stato preso a 65, è stato rivenduto a 110, a chi mi è stato preso a 30, è stato rivenduto a 65, il signor Barella e il signor Bastoni, se fossero stati venduti dopo i due anni di Antonio Conte, comprati a 30 e 25 sarebbe stati venduti entrambi a 50 e 60, quindi è stato fatto un lavoro straordinario, sicuramente supportato da Marotta Ausilio che sono due grandi dirigenti, che sono due grandi dirigenti quindi, secondo me l'Inter è sempre stata più forte a mio avviso del Milan, sempre, intanto è vero che quello scudetto… Però possiamo… Aspetta, ve lo dirò… Prego, 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 non acavallarci, cioè… Prego, prego. No, 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 vai, nel senso che io volevo dire una cosa, che lo dica un opinionista in studio, che lo dica Massimo, che lo dica io, eccetera, che l'Inter è più forte, secondo me fa parte un po' del gioco, dei ruoli e ci sta, Ma un allenatore che non l'ha mai detto, che lo dice adesso, quando praticamente sta rosicando perché ha capito che è arrivato a fine stagione, ed è anche un modo di dirlo quasi a tutela del suo lavoro. Ma io ho analizzato solo le parole. Quindi il fatto che Pioli dica che l'Inter... Poi l'Inter ha lavorato benissimo, sottoscrivo tutto quello che ha detto Massimo, però secondo me detto in questo momento da Pioli sa tanto di un fastidio, di un rosicamento, di andare a coinvolgere un'altra squadra per dire... Però a prescindere dal rosicamento è fastidio che sicuramente è una cosa naturale, è in difficoltà attaccare... Però a prescindere da questo per me ha detto delle cose giuste. Ecco, lui dice, mi state trattando come l'ultimo di Pirla... C'è anche del Napoli l'Inter l'anno scorso. Però non sempre che la squadra più forte vince. Infatti, ma io non ho detto che la squadra più forte vince. Esatto, ma è quello... Io ho detto che se peso, io ho fatto un'analisi anch'io, se peso gli organici in profondità, in qualità, in esperienza, in personalità, per me anche l'anno scorso l'Inter era più forte del Napoli. Però vi ricordate che il Napoli, come hai detto tu, non sembrava la favorita e poi ha stravinto perché ha avuto un top allenatore, no? Vi ricordate cosa dicevamo dell'Inter quest'estate? Ah, si è indebolita. Aspetta però, perché io ti faccio vedere la tabella che abbiamo fatto all'inizio dell'anno, io non ho messo la Juve nelle prime quattro e quindi già lì, vuol dire che non ci capiscono una mazza, ho messo l'Inter prima e io ricordo che quelli che c'erano in studio, tutti l'Inter prima hanno messo. C'era poi, nelle prime quattro, tutti l'Inter prima hanno messo e non era ancora iniziato il campionato e c'erano il Napoli, il Napoli secondo o terzo, questo me lo ricordo come se fosse oggi. Io volevo dire che c'erano il senante Massimo, io sentivo perché mi facevano la lista della spiega, scriglie e il Milan. C'era il Milan e c'era a turno, c'era il Napoli e la Lazio, se ricorda Marcello, e a turno c'erano il Napoli e la Lazio che quest'anno, l'anno scorso, prime e seconde, quest'anno sono sparite. Sì, vorrei dire una cosa. Vecca, 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 arriva, arrivo qua. Permesso, posso? No, ma io... No, sto dicendo, siccome ricordo poche cose ultimamente, però mi hanno fatto la lista della spesa, Skriner, Dzeko, Brozovic, Lukaku, Unana. Unana, quindi il Pupar Lera, l'Inter si è indebolita, poi dopo è saltato il meccanismo anche con gli attaccanti che non c'era, perché mi dispiace anche per Dzeko perché è stato uno dei primi che si è congratulato. Lui è andato via, ha pagato una situazione che... Che lui credeva che restasse Lukaku. Sì, lui rimaneva anche a fare la terza punta. Però ecco, per quanto riguarda Pioli, io credo che lui poteva evitare di dire certe cose, perché lui ha vinto un campionato che anche qua tutti noi addetti ai lavori, quell'anno lì, Juve, Inter e Milan, no, Inter, Juve, Napoli, erano considerati tutti i più forti del Milan e il campionato l'ha vinto il Milan. De Piole per un centro campo, Tonali che sì, eh, Tonali che sì. Però quel campionato l'ha perso l'Inter. Sì, Massimo, i sette pareggi, ho capito, però non era più forte. Però ragazzi... Io potevo evitare di dire che l'Inter è quattro anni, era più forte, e come per dire, doveva vincere tutti e quattro. Un secondo me, anche Paolo e Marcello. Tre cose, tre sassolini. Il primo... Con Antonio l'ha vincere tutti e quattro. Secondo me ha perfettamente ragione a dire che l'Inter negli ultimi quattro anni è più forte. Si pensi al primo anno che ha vinto con Conte lo Scudetto, il secondo ha perso col Milan, il terzo l'ha perso alla grande con Napoli, questo l'ha vinto. Però è anche vero che lui lo dice Cicero, Prodomosua, per se stesso. Lo dice perché vuole valorizzare il campionato che ha vinto lui due anni fa. Anche questo fa parte della fine di un... Ma io prendo in esame, Paolo, il suo contenuto. Io non prendo in esame da chi è venuto fuori, ne prendo in esame il fatto di tutti i ragionamenti che sono condivisibili. Poi ho trovato... Il concetto di Pioli è... Mi state trattando come un pirla da due mesi e io vi dico... Esatto. Ho trovato le statistiche... Un secondo. State beatificando Inzaghi, dice Pioli, mentre io sono l'ultimo... Dei pirla. Dei pirla. E lui rivaluta un po' il suo lavoro. Poi sta rosicando in difficoltà. Sicuro. Stai in un punto momento. Paolo, scusami. Come si fa a dire contatto? Però, secondo me, invece, va bene, è ovvio, la rosa dell'Inter, la vedi per quello che ha fatto, è devastante, no? Una squadra che tiene in panca frattese, eccetera. Però vogliamo dare dei meriti molto particolari al suo allenatore? Perché comunque, cioè, io te l'ho detto, quest'estate tu dici, ah, ha preso Sommer a cent'anni e non para. Bastoni è cresciuto tantissimo. Beh, però scusa, ho capito. Mkhitaryan a 34 anni ha fatto una stagione... No, Vabbè, Bastoni già con l'Inter, figli di Conte, non è cresciuto. No, Vabbè, ma ha fatto una stagione già nello scudetto, te lo dimentichi. Sì, no. Nel primo scudetto di Antonio, lui quando è arrivato lì, scusami, ma io ti vorrei portare a cena con Antonio e farti raccontare cos'era Barella quando è arrivato all'Inter, eh? Cos'era Barella quando è arrivato all'Inter, fatevelo raccontare da Antonio Conte. Cioè, bene o male? Che ti fai giurizzate. Che ti fai giurizzate. È cresciuto? Ma c'è, ha preso un... È il merito degli allenatori, però... Certo, però io credo che chi è andato a scegliere Barella, chi è andato a scegliere determinati giocatori, vuol dire che ha azzecchiato e ha intravisto giocatori che potevano inserirsi, che potevano avere un determinato input sulla squadra. Sul lavoro di Conte niente da dire, secondo me... No, ma anche sul lavoro di Inzaghi niente da dire, per l'amor di Dio. Ma quest'anno, secondo me, tu che fai fare una stagione così ad Acerbi, che ha 35 anni, una così a Mkhitaryan, cioè è incredibile. Cioè, tu eravamo il primo anno, un ambientamento pazzesco. Bastone Mkhitaryan ce l'aveva anche l'anno scorso, però. No, ma ha fatto una stagione quest'anno... Bastone Mkhitaryan ce l'aveva anche l'anno scorso. No, ma io dico, la prestazione quest'anno è altissima. Che quest'anno non ci ha lavorato. Marcello, ragazzi, però quando parla uno aspettiamo che finisca, se no non si capisce nulla. Marcello, vai. Ci abbiano lavorato bene sopra, questo è indubbio. Questa è stata sicuramente la rivincita di Inzaghi rispetto, soprattutto a due anni fa, quando ha perso uno scudetto che ce l'aveva in mano. E Pioli se lo vinse meritatamente, perché ci credette, con tutta la squadra, esprimeva anche, secondo me, un buon calcio. E lo vinse meritatamente. Non è stato, come dice Moratti, un regalo dell'Inter. È stato un demerito dell'Inter, piuttosto che un merito del Mila. E lì, sicuramente, di quello forse ha fatto tesoro, ma anche l'anno scorso, l'Inter che va in finale di Champions League, arriva a 20 punti dal Napoli. Ed è la stessa squadra quasi di quest'anno. Però posso ricordare una cosa. Quindi, secondo me, è vero che Inzaghi ha dei grossi meriti quest'anno, ma ha anche dei meriti, quindi ha ragione Pioli, poteva vincerne anche almeno un altro in più. Però posso dire una cosa? Vai, Max. Non sono io che lo dico. L'anno scorso, un anno esatto fa, forse un mese meno, a marzo, Cioè, non sono io. Marotta, sul giornale, va detto, o questo si sveglia o se ne va. Cioè, ragazzi, scusami, se secondo me, scusami Paolo, perché poi nella vita e anche nel calcio ci sono degli slide indoors, che sono anche dei colpi di fortuna. Cioè, io non ti voglio dire, però, se dal bussolotto tirano fuori il Real Madrid, invece che il Porto, perché ci poteva stare, perché sei arrivato a secondo, o il Manchester City invece che il Porto, probabilmente ci staremmo raccontando un'altra storia di Inzaghi. Però, ribadisco, ha sicuramente tutti i meriti, ma poi si veniva qui anche per fare trasmissione, e lo slide indoors, secondo me, gli ha girato un po' bene. Come ha girato bene a tanti altri allenatori. Ad Allegri quanto Conte a Norema Juventus. Certo, Allegri stava firmando per la Roma, alla Juve va via Antonio dopo tre giorni di ritiro, perché puntini puntini chiamano Allegri. E aspetta, altrimenti avevano preso Mihajlovic. Attenzione, avevano già preso Mihajlovic. Marotta, Marotta, voglia portarmi Ajlovic. Sì, per tornare al discorso di Paolo, Paolo Bargigia, tu sei completamente coerente quando dici che l'Inter non è la favorita per lo scudetto secondo te, perché la statistica che facessi in settembre è che Milan a primo posto, Inter a seconda, Juve a terza, Napoli a quattro. Ah, avevi segnato le mie... No, stavamo insieme in quella trasmissione. Maravinci! Veramente? Cosa avevo messo? Milan, Inter, Juve, Napoli. Io avevo detto Inter, Juve, Napoli e Milan, quarto. Perché il Napoli lo mettevamo sempre. Io mi ricordo che c'era il Napoli sempre. C'era sempre il Napoli. Vedi che io me lo ricordo quella cosa qui che hanno fatto all'inizio. Aveva vinto lo scudetto. A me lo stupito. Ma tu ti ha messo l'Inter. No, ma quello sì. In settembre. Però a me è stupito. No, io non avevo messo l'Inter però. No, a seconda, tu sei stato l'unico che ho messo l'Inter. Ma è stupito te, a prescindere. Perché hai messo il Milan? Non è beccata una. Non è beccata una. No, no, pazzesco. Però hai ragione quando dici non tutti hanno messo l'Inter. Perché proprio tu non l'avevi messa. Ma voglio dire, però, allora, diciamola tutta su Pioli, no? Diciamola tutta. Tra l'altro lo stimo perché comunque ha un'idea di calcio che mi diverte, mi piace. Poi lascia perdere che quest'anno è stato particolarmente sbilanciato. Fase difensiva disastrosa. Ha responsabilità sugli infortuni. Tutto quello che vuoi. Però è un signore elegante. Non fa mai polemiche, non fa mai casino. Ultimamente un po' di più, ma... Un po' di più, però c'è anche da dire che è stato molto lasciato solo con questa forma di società strana qua. perché alla fine, vedi, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, nessuno parla. Ogni tanto Furlani l'ha portato lì, non c'è più. Tutti quelli che lo hanno tagliato Ragnik e hanno portato lui, non ce n'è più uno. Però vogliamo dire, e ti risulta, che Pioli comunque, se fosse rimasto Maldini, probabilmente quest'anno non era sulla panchina di Milano. No, perché Maldini voleva la sua testa l'anno scorso. Ecco, bravo. Si era parlato di Pirlo addirittura. Bravo, bravo. Ecco, non dimentichiamoci di questa roba. Pioli ha fatto una stagione in più. Ma, e però l'ha fatta con questa responsabilità, secondo me, che gli hanno dato molto agio sul mercato. Tutti i giocatori avevano le caratteristiche che lui chiedeva, perché loro l'hanno detto. 128 milioni? Pioli, dico. Abbiamo speso 128 milioni? Sì, sì, no, ma a parte i soldi. Ha preso giocatori offensivi, molti esterni, eccetera, eccetera. Devo dire, scusa Paolo, che gli hanno dato anche una mano a gennaio, quando, tra virgolette, io non voglio dire per causa sua, per un suo lavoro sbagliato, c'era una moria di difensori, richiami Gabbia e prendi Terracciano. Cioè, una mano lì gliel'hai data. Sì, sì, sì. No, ma infatti, ecco, secondo me l'ha costruita male quest'anno, una squadra troppo sbilanciata. Esatto. Infatti non fa filtro, non fa davanti alla difesa, non copre. Io su Pioli, una delle domande che mi faccio sempre, però qui, io non vivendo a Milanello e non avendo nessun tipo di riscontro, la gestione Leao e il rendimento Leao, che è un giocatore che io vedo che ha delle qualità straordinarie, non solo dal punto di vista tecnico, ha delle qualità straordinarie dal punto di vista atletico, fisico. Con questo mi hanno detto che ha una resistenza alla velocità nei test impressionante. Cioè, cosa che se viene sfruttata all'interno dei 90-95 minuti, ti ammazza sull'esterno. Quello è un altro tema. E io non ho ancora capito, Paolo, dove sta la verità. Cioè, è nella sua indolenza, è nell'altro che il bastone e carota. Sì, io sono d'accordo, Pioli non ha saputo dare il bastone, solo la carota nei suoi confronti. Lo coccola. Poi vediamo se magari con altri metodi Leao lo cambia un po'. Però è vero, cioè è stato molto genuflesso con Leao, sempre... Certo, bravo, esatto, esatto. Perché in questi giorni si parla tanto di un derby di mercato per Zirkzee. Zirkzee, ti risulta? No, 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 perché comunque l'Inter, a parte che Zirkzee, diciamo, uscirà almeno a 60 milioni e 55. Ok. L'Inter ti ha fatto capire qual è la strada maestra che seguono, molti parametri zeri. E comunque, cioè, non può succedere ad oggi, la fotografia di oggi è un no secco, che poi venga scritto, che porti visualizzazioni, clic, eccetera, va bene. Perché i titolari dell'Inter, salvo sorprese, saranno sempre Lautaro e Thuram. Più Taremi. Più Taremi. E poi c'è il quarto attaccante. Sì, ma che non sarà nemmeno Gudmundson, perché devono prendere giocatori che costano poco, che facciano le alternative. Però quel tesoretto di cui si parla, Carboni, Fabian, che adesso già è a Bologna. Su Carboni, allora, intanto Fabian, l'Inter alla recompra, ma nel 2025, a 12 milioni e mezzo. Quindi il Bologna, in teoria, se vuole, può non venderlo. Cioè l'Inter non può usare Fabian quest'estate, hai capito? Certo, certo. Poi, Valentin Carboni, l'Inter, non ha intenzione di cederlo, se non a cifre clamorose. Ma un conto è cederlo a un giocatore con un'operazione a soldi all'estero, a 50 milioni. Ma non puoi un giocatore prezioso, con un potenziale, metterlo in una trattativa per abbassare il prezzo. Di solito è una contropartita tecnica per abbassare il prezzo. C'è qui Massimo, che ha fatto le operazioni. E' un giocatore medio, che ti abbassa il prezzo, non è la stellina, perché la stellina... Se le Makers per Zizie, no? Non ho capito. Se le Makers per Zizie. Il Milan che utilizza Salma Kers. No, ma non c'entra, ma Salma Kers è... Con la differenza o con guaglio, dico io. Sì, vabbè. Il Bologna riscatta 11-12 milioni per Salma Kers. Nel senso, perché il Bologna deve il 38% della cessione di Zizie al Bayern Monaco. Quindi, voglio dire, cosa fa? Regala Zizie per mettere dentro Salma Kers se non le restano soldi in tasca. Ma Zizie sarà venduto a soldi. Il Milan ci sta provando. Se avrà, arriverà a quelle cifre. Lo farà, se no è probabile che vada all'estero, secondo me. Ma l'Inter in questo momento è la cosa più sbagliata, pensare che sia Zizie. Se tu mi dici cosa farà l'Inter, prenderà un'altra attaccante con l'uscita dei due Arnautovic e Sanchez, quando ci sarà, ma sempre un'operazione low cost. No, Paolo? Poi, l'Inter dovrà investire non tanto, ma su un portiere, perché a Udero non lo riscatta e torna dal prestito alla Sampdoria. Probabilmente il giocatore maggiormente indiziato è il brasiliano Bento, dell'atletico paranaense che loro seguono da tanto, che ha già giocato con la nazionale brasiliana. Poi, probabilmente prendono uno svincolato in difesa, che potrebbe essere o Ermoso dell'atletico Madrid, ma loro sarebbero più interessati a Nacio, che è uscito da Real e che avevano già trattato quest'estate. Non vogliono assolutamente toccare l'asse del centrocampo, per nessuna cifra da quello che ho capito. Arriva Zelischi, arriva Zelischi e c'è Dumfries ancora sul mercato. Se Dumfries dovesse essere ceduto, nonostante abbiano Buchanan, secondo me proveranno a fare ancora qualcosa. Sono molto stuzzicati dall'idea di Cajode della Fiorentina, per esempio. Esterno. Esterno, dico. Se dovesse partire Dumfries. Se parte Dumfries. Se non lo conosco, c'era con me. Però qua si capisce, secondo me, la bravura di Marotta, ausilio. Io non dico che il mercato dell'Inter sia già concluso. Ma ci siamo quasi. C'è un progetto. Cioè, mentre ci sono squadre che devono essere rivoluzionate. Cioè, l'Inter mette giusto i tasselli. Guarda, Valentin Carboni tornerà dal prestito al Monza. Loro non lo vogliono cedere, se non a cifre pazzesche. E probabilmente Valentin Carboni andrà in prestito ancora. Perché nell'Inter, col modulo dell'Inter, non ha spazio. Ma ha chiesto al giocatore di provare a trovare una squadra, se possibile, un po' più competitiva del Monza. Secondo voi l'Inter riparte da... Becca, vengo da te. Riparterà favorita l'anno prossimo, sulla carta? Chi vince il campionato parte sempre favorito. Però qua, secondo me, la cosa che l'ho sottolineato tante volte, sono rimasto stupito che anche l'ultimo giocatore che è arrivato sembra che giochi nell'Inter da tantissimi anni. E quello vuol dire tanto come ambiente, come... Sì, sì. Poi è chiaro che anche io personalmente ho visto dei giocatori crescere che non pensavo che fossero così forti. E quindi è stato un percorso grandioso. Perché sono arrivati lì i parametri... Però Becca, se il prossimo anno fai la stessa cosa che ha fatto il Napoli da campione d'Italia, a me non dispiace. È me, ma... Sì, ti ringrazio perché sei veramente un amico. Ma come è Troisi e Benigni. Ma me lo scegno. Non ci resta che piangere. Ma me lo scrivo. Max, guardiamo con occhi diversi Inzaghi dopo questo campionato. Cioè, è arrivato... Nel novero... Lo possiamo annoverare tra i grandi allenatori? Manca ancora qualcosa? È un ottimo allenatore? Cosa vogliamo dire di Inzaghi dopo questo scudetto? Io se devo scegliere un allenatore non scelgo Inzaghi. Ok. Io se sono direttore sportivo di una squadra e devo gestire dei campioni, scelgo un allenatore e non è Inzaghi. Se devo ricostruire, scelgo un altro allenatore e non è Inzaghi. Io onestamente non ho questo... Non ti ho ancora convinto al 101%. Non ho questo debole per Simone Inzaghi. Max, qual è il tuo allenatore ideale? Quello che tu giudichi in migliori, in assoluto, sulla piazza? Italiano o stranieri? Per me quello che piace di più di tutti è Guardiola. A me Guardiola fa impazzire dal punto di vista non solo di come gioca, ma anche dall'empatia, da quello che trasmette. Io sono andato a vedere un allenamento... Dal carisma, sì. Dal carisma. Io sono andato a vedere un allenamento quando era al Bayern di Monaco in Trentino con la complicità di alcune persone che mi hanno fatto entrare insieme a un allenatore. Sono stato lì proprio... E io devo dire che vedere lui allenare è uno... Cioè, si deve pagare il biglietto perché è troppo bello, non solo dal punto di vista del... proprio squisitamente tecnico-tattico, ma proprio dal punto di vista di come riprende il giocatore che sbaglia, di come lo rincuora... C'è il documentario adesso sul Manchester City... Per me, sì. Poi, se mi dici... È indemoniato, eh? Un allenatore che porterei nella mia squadra perché è anche un mio amico, ti dico Antonio Conte, perché secondo me è un vincente, perché secondo me deve solo migliorare di non essere troppo rompipalle quando perde. Però forse è anche la sua forza quella. Avevi detto che il tuo allenatore ideale era del Zerbi prima. Cioè, adesso hai cambiato idea. Paolo, quanto è più avanti l'Inter rispetto alle altre? Cioè, da tifoso milanista, hai la paura che quest'Inter possa aprire un ciclo? Sì, ho la paura che possa aprire un ciclo perché è una squadra non giovanissima, con giocatori esperti, che hanno già vinto, navigati, che ha un progetto soprattutto, e ha un'idea molto precisa e è molto chiara. Sta acquistando giocatori di 30 anni come Zenischi, di 32 come Taremi, che sono giocatori già realizzati e che vanno a fare un tassello preciso di una squadra. Quindi nel brevissimo termine ho paura che fino a quando Juventus, Milan, Napoli e altre squadre non si riassembreranno perché dovranno ricominciare, dovranno azzerare molte cose, ricominciare, l'Inter possa vincere. Ho questa paura, sinceramente. Marcello, una macchina quasi per... Posso rubarti solo un secondo? Perché ci tengo un mio carissimo amico. Sì. E anche, ma scritto, siccome ci segue sempre... Certo, lo salutiamo. E anche questo blocco sull'Inter se l'ho preso tutto barziggia. Non ho parlato, ma non ho parlato. No, come... No, salutiamo il tuo amico. Hai aperto tu col mercato, pa. Sì, ho aperto sul mercato, però poi però non ho più... Poi poi sei stato in silenzio, in rispettoso silenzio. Sembri un po' Pioli quando dice che per quattro minuti non sono entrato in linea. Paolo, lo lasciamo parlare troppo poco. Devo dire la verità. Vero. Marcello, quindi... Quando c'è studio Max è dura, eh, tenere di testa. È una macchina inarrestabile l'Inter, Marcello? O vedi qualche falla nel motore, alle porte, non lo so. No, al momento in Italia non vedo uguali. Ok. Poi bisogna vedere quest'estate come verranno ricostruite le altre squadre. Allora vedremo se il Napoli non può restare questo, il Milan sicuramente non resta questo, la Juve qualche aggiustamento lo fa, quindi poi ne riparliamo ad agosto. Al momento non vedo uguali. Cioè la differenza che c'è in classifica c'è con le altre squadre, perché in campo l'ha detto, in campo l'ha detto, al netto degli episodi VAR, al netto degli episodi VAR. Sì, 7-8 punti, dai. La ributa tali. Sì, dai. 7-8 punti. E Zirk Zee invece, ragazzi, Max, Becca, ditemi la vostra sur Zirk Zee. Se la Juve vende Blaovic, la Juve vende Blaovic, la Juve prende Zirk Zee. Ah, ok. È un ottimo gioco. È un ottimo gioco. Se la Juve vende Blaovic, prende Zirk Zee, perché Tiago Mosta vuole di... Lo vuole. Il salto è anche... Eh, quello ti voglio dire, fare il titolare a San Siro come sarebbe? Ah, però se non rischiamo, io sono per i giovani, quindi perché... No, non fa tanti gol, Zee. Non fa tanti gol. È partita anche l'avvocato. Ma fa un altro tipo di gioco. Sì. Le fa fare agli altri, però. Si adatta bene per... Becca, becca, becca. No, volevo dire, ormai non è pronto, bisogna di un... Quando uno intravede le qualità, io sono il primo che dico, avanti tutta, e poi dopo un tempo... Poi vedi. Non mi piacciono quelli che, sì, bravino, però vediamo serie B, serie A... Quelli che trovano sempre l'aspetto negativo delle cose. Ma non faccio nomi, lo guardo. No, allora, è vero. No, è vero. Sottoporta non ha dei numeri... Sottoporta non ha dei numeri meravigliosi, però l'altro giorno riguardavo le mai... Disegna calcio questo ragazzo, eh. Fa segnare il giocampista. Cioè... Qualitativamente parlando... È straordinario. È vero? Sì, sì. Piace moltissimo. Bisogna vedere, però... No. Vogliamo dar merito a Tiago Motta come l'ha valorizzato e messo nella condizione di fare... Sì, è vero anche che è un giocatore che l'aveva comprato il Bayern Monaco, quindi le qualità erano già... Cioè... Poi riesce anche a dare una mano in fase di non possesso palla, eh. Cosa che... Vuol dire che è anche la predisposizione di corsa e di sacrificio per la squadra. Questa è una cosa che un osservatore guarda, vero Becca? Sì, lo scorso anno... Non è facile guardare la punta al centrocampio quando sei in possesso palla. Devi guardarlo anche quando hai in possesso palla. Lo scorso anno in un Bologna-Mira non soprire... Al Bologna? Uno a uno. Lui gli chiesi perché Arnauto vince e non lo faceva giocare. Perché diceva risolto un infortunio. Perché voleva lanciare Zirchè. Per lui.